Salve a tutti i giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di Radio D2. Io sono sempre Ghetano e oggi vi parlerò di quello che è ormai l'appuntamento settimanale con la serie animata The Bad Batch, che è arrivata alla sua quarta puntata. Anche questo episodio, che si intitola Braccati, si dimostra essere una puntata di transizione, anche se comunque contiene tantissimi elementi nuovi e sorprese interessanti. Lo analizzo dopo la sigla. L'episodio si apre con la Clone Force 99 che si dirige sulla luna di Pantora per trovare rifornimenti e soprattutto per modificare la nave affinché non venga più tracciata dall'impero. La prima sorpresa l'abbiamo già nella sequenza iniziale, quando i nostri atterrati sulla luna di Pantora hanno a che fare con un salustiano allo spazioporto. Questo salustiano contatta un personaggio noto all'interno dell'universo di Star Wars che tutti quanti stavamo aspettando nella serie The Bad Batch, una giovane Fennec Shand, che nella serie animata, come vi abbiamo detto in tantissimi altri articoli, è doppiata ovviamente dalla sua interprete in live action Ming Na Wen. Fennec è alla ricerca di Omega e alla fine dell'episodio scopriremo un dettaglio molto interessante in merito a questo lavoro su commissione. Ma andiamo ad analizzare quelle che sono le caratteristiche della puntata, partendo appunto dalla sequenza iniziale. I nostri protagonisti si dividono, Breaker e Tech rimangono ad aggiustare la nave, mentre Echo, Hunter e Omega vanno in città per trovare rifornimenti. In città i nostri protagonisti trovano una situazione molto simile a quella di Salukamai, ovvero una folla festante data la fine delle guerre dei cloni e soprattutto in fila per ricevere il codice a catena che li identificherà e soprattutto gli permetterà di cambiare la valuta in crediti imperiali. Come abbiamo scoperto nel terzo episodio, queste azioni sono state portate avanti da Rampart e sono state accolte con gioia dalla popolazione, nonostante i pericoli che poi si sarebbero presentati negli anni successivi. Mentre i nostri protagonisti sono ad un mercatino gestito da un esemplare di razza Gran, Omega si allontana distratta da una specie aliena che somiglia molto a dei canidi, ovvero i Vurpak. Se ben ricordate e se seguite le altre serie animate, conosciamo un Vurpak molto famoso all'interno della serie animata Star Wars Resistance, ovvero Bubbles, il Vurpak di Torra Dosa. Da questo momento parte quello che è l'argomento principale dell'episodio, ovvero un vero e proprio inseguimento all'interno della città. Omega viene attirata da Fennec, che si dimostra ovviamente subito affabile e gentile nei suoi confronti per portarla via. Hunter si accorge di questa cosa e comincia quindi l'inseguimento. In queste scene d'azione ci sono due elementi molto molto interessanti. Il primo è la realizzazione grafica dell'inseguimento, che soprattutto negli sfondi è davvero pazzesca. E ci mostra quanto la grafica animata anche di Star Wars abbia fatto passi da gigante rispetto ad esempio a quelle che erano le prime stagioni di The Clone Wars. Il secondo elemento interessante è il riferimento a quello che è l'inseguimento di Episodio 2 su Coruscant. Una bellissima reference che ci riporta in quelle che erano le ambientazioni urbane, un qualcosa che in Star Wars mancava da un po' di tempo. Come dicevamo, questa sequenza d'azione è praticamente il fulcro di Braccati. Da questo punto di vista, come dicevo, ci sono degli elementi interessanti, ma allo stesso tempo ci sono anche dei dubbi. Nel senso che questa puntata, che comunque è molto bella e interessante, si dimostra essere per l'ennesima volta un episodio di transizione. Anche il terzo episodio, dal lato dei protagonisti, è stato molto fiacco, molto di transizione. Ma il terzo episodio si salvava in questo senso perché ci narrava tantissima lore e tantissime informazioni in più sulla questione imperiale e il passaggio dall'esercito dei cloni all'esercito di volontari. Questo episodio invece, oltre all'apparizione di Fennec Shand, che comunque è sempre gradita, e a questo inseguimento mozzafiato non ci fornisce ulteriori dettagli sulla trama. Anche perché rivediamo all'interno di questo episodio, come già era accaduto in quelli precedenti, una dinamica molto simile a quella di Domandalorian, che da un lato non è asfatto un male, ma dall'altro invece può generare tanta ripetitività. In effetti già i temi sono molto simili a quelli della serie Live Action. Una persona che si trova ad essere un genitore in maniera inconsapevole, un ragazzo, un bambino, una ragazza, che devono capire qual è il loro posto nel mondo, che si mettono in pericolo e che devono essere salvati. Sono tutte dinamiche che già abbiamo incontrato e che rischiano di diventare davvero ridondanti, se nella serie animata non viene inserito subito un bel pezzo di trama. Cosa che sembra avvenire alla fine dell'episodio, quando i nostri protagonisti riescono a scappare e Fennec Shand si confronta con il Sallustiano che li ha fatti andare via. Alla fine dell'episodio Fennec si mette in contatto con coloro che le avevano commissionato il rapimento di Omega. E qui la puntata si conclude con un interrogativo. Chi è stato a commissionarle questo lavoro? Io tendo ad escludere la possibilità che siano stati gli imperiali, anche perché in questo periodo storico non hanno particolare interesse nei confronti di Omega. Allora chi potrebbe essere stato? Ovviamente i primi nomi che vengono in mente sono quelli dei Kaminoani. Forse la dottoressa Nalase, dopo averla fatta scappare perché temeva appunto Tarkin e l'Impero, vuole riappropriarsi di Omega. Oppure potrebbe anche essere stata mandata dal primo ministro Lamasù che ha bisogno della ragazza per determinate questioni che scopriremo in futuro. Ma c'è anche una terza opzione, ovvero il fatto che Fennec Shand abbia ottenuto questo lavoro da un personaggio o una serie di personaggi che ancora non ci sono stati presentati e che non conosciamo. E questo ovviamente potrebbe essere un'ottima occasione per approfondire la trama e andare oltre quelle dinamiche di cui vi parlavo. Dinamiche che, come vi dicevo, sono state già molto approfondite in The Mandalorian. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!